E l'uomo che parlava con i cavalli era Gianluca? Sì, è vero. Anche a Gianluca, quando sono 30, non è la mia cavalli. Non vanno più insieme per divergenza di opinioni, però... Anche a quelli che voglio di nuovo ringraziare tutti coloro che sono venuti oggi qui e tutti, soprattutto i volontari, che ci hanno aiutato. Soprattutto il signor Dolce. Bravo il signor Dolce! Il signor mezzino, mio minore qua, presento? La mia ragazza Roberta, con me stesso noto. I volontari, Maria Mole, Anna... Qui si. Ma perché ha dato un punto? Grazie.